Come Ampar siamo presenti quest'anno per la prima volta a questa bellissima manifestazione fare i conti con l'ambiente. Ampar quest'anno in due giornate tratta temi fondamentali per l'economia circolare, soprattutto relativamente ai rifiuti inerti e ai prodotti che derivano dal riciclaggio dei rifiuti inerti, prodotti che possono essere utilizzati nelle costruzioni infrastrutturali, prodotti che speriamo abbiano un grande impulso al loro utilizzo attraverso l'adozione da parte del Ministero dell'Ambiente dei criteri ambientali minimi per la costruzione delle strade. Le due giornate si articolano in convegni e seminari sui criteri ambientali minimi ieri e nella giornata di oggi si parla della possibilità di utilizzo degli aggregati artificiali, che sono quei prodotti che derivano dal riciclaggio di rifiuti non provenienti dall'edilizia, ma ultimamente impiegabili in tante opere edili. Oggi pomeriggio nella fattispecie si parlerà del possibile impiego degli aggregati artificiali e degli aggregati naturali per impieghi legati, quindi in calcestruzzi strutturali e non. Grazie per la visione!